Ciao a tutti ragazzi e bentornati alla rubrica chiedilo a un trader sportivo e bentornati in una nuova puntata dove continueremo il discorso che abbiamo incominciato due settimane fa sull'utilizzo delle macchine virtuali, sull'utilizzo appunto delle DPS di trading. Oggi appunto voglio continuare ragazzi questo discorso facendovi vedere degli esempi pratici sul come utilizzare una macchina virtuale e vi voglio appunto mostrare una strategia che adopero e che appunto potrete utilizzare anche voi perché lascerò all'interno della sezione automazioni now trade nella trading academy quindi voglio mostrarvi come io personalmente utilizzi una strategia di trading che automatizzo al 100% e lascio naturalmente fare alla nostra macchina virtuale. Come vedete ragazzi sono all'interno della macchina virtuale adesso mi sto ricollegando come vedete appunto ho il mio Betangel caricato, il mio Guardian che utilizzerò naturalmente per trovare le partite all'interno naturalmente di Betangel ma dall'altra parte ragazzi quello che ho goal profits da questa parte e naturalmente anche trade on sports dall'altra parte. Che cosa voglio fare ragazzi? Voglio trovare quelle partite, voglio appunto utilizzare una strategia dove faccio automaticamente sniping negli ultimi 10 minuti di partita ragazzi quindi voglio trovare quelle partite con il più alto, con la più alta percentuale di goal verso la fine dell'incontro e voglio automatizzare appunto all'interno del paninsesto questa strategia su diverse partite. Ovviamente questo è uno dei mille esempi che possiamo fare all'interno di una macchina virtuale del trading automatico, ovviamente ci saranno tantissimi esempi sul come io automatizzi, molte strategie specialmente nel tennis ragazzi ma oggi appunto voglio farvi vedere un esempio pratico di come avere una macchina virtuale e naturalmente come naturalmente far far trading a questa macchina. La primissima cosa che faccio ragazzi sono le 5 ragazzi in questo momento qua in Regno Unito, vado a vedere subito probability of a second goal almeno 90% ragazzi, vado appunto a vedere nel 90% dei casi appunto i goal e quello che vado a trovare appunto sono diverse partite come per esempio in questo momento sono appunto le 17, non ci sono grossi eventi che soddisfino appunto le mie requisiti come vedete in questo caso, quindi vado verso per esempio il live stats module, vado per esempio a vedere una partita che stavo seguendo era la partita appunto del CSKA Mosca e per esempio appunto andando nel live games vado a vedere quelle partite che sono attualmente per esempio su un risultato di 0 a 0 che sono spesso appunto i risultati che vado a cercare per il mio snipe e che cosa faccio? Essenzialmente guardo un attimo quello che trovo, ci sono diverse partite in Norvegia ragazzi, in Norvegia la Norway Elite Serien, la liquidità su questi incontri è buona ragazzi, è buona, c'è grossa liquidità specialmente su questa partita non so bene il perché ragazzi, sulle altre partite non c'è tutta questa liquidità, quello che possiamo andare a fare naturalmente è andare anche tramite trade on sports attraverso appunto il game stat app potrei andare per esempio a vedere negli incontri che sono in questo momento live ragazzi, togliendo il sound se no arrivano un sacco di notifiche per esempio tutte quelle partite dove abbiamo una expectancy di goal come vedete alta, questo lo faccio spesso ragazzi per esempio Tottenham contro Arsenal ragazzi questa potrebbe essere una buona occasione, vado naturalmente a cercare quelle partite, lo sto facendo un po' velocemente ragazzi spesso io ci passo ore e ore a fare ricerca di averlo dietro gli eventi ma voglio farvi vedere un esempio di come appunto automatizzare il nostro trading come vedete per esempio nella Premier League abbiamo appunto degli incontri dove magari appunto verso la fine delle partite potrebbero esserci tanti goal io lo guardo spesso ragazzi se c'è un buon indicatore come vedete all'interno del secondo tempo per esempio in Premier League ci sono tanti goal verso la fine della partita quello che posso andare a fare appunto è utilizzare una strategia di trading automatico su tutte quelle partite che rispecchiano i canoni di una alta percentuale di goal verso la fine della partita se io entro ragazzi alla fine dell'incontro le mie quote sono abbastanza basse per permettermi di avere una analisi rischio e rendimento ampiamente a mio favore quindi non mi serve diciamo trovare tanti goal ma mi serve trovare magari soltanto alcune partite con goal verso la fine della partita per essere in profit sul lungo periodo questo come vi dicevo è un esempio, un'altra cosa che possiamo andare a fare ragazzi è per esempio andare a vedere le statistiche e andare a vedere per esempio Arsenal Tottenham, Arsenal Tottenham come vedete la percentuale di goal verso la fine della partita è buona ci sono diversi goal verso la fine della partita diciamo che stiamo incominciando ragazzi ad avere abbastanza analisi quindi in realtà non è che ci siano così tante analisi però una cosa che possiamo fare per esempio anche Liverpool è una squadra che fa e subisce spesso goal verso la fine della partita come vedete ci sono delle buone occasioni per queste due partite per avere goal per esempio verso la fine dell'incontro quello che faccio mi muovo all'interno della mia macchina virtuale ragazzi arrivo qua cosa faccio vado per esempio a prendere adesso faccio per esempio Arsenal guardo l'Arsenal Tottenham Arsenal vado a cercare appunto la partita dell'Arsenal come vedete Tottenham Arsenal vado all'interno del Correct Score Market lo inserisco appunto all'interno del mio Guardian e quello che faccio inserisco la strategia automatica appunto dell'auto sniping ragazzi che è appunto la strategia che ho creato dove automaticamente negli ultimi 10 minuti della partita faccio un drip lay all'interno appunto del risultato esatto e naturalmente faccio sniping negli ultimi 10 minuti della partita ovviamente questa è una automazione ragazzi che troverete all'interno delle automazioni di NowTrade dove creo per voi decine e decine di automazioni all'interno appunto del trading volevo appunto farvi vedere uno degli utilizzi che io faccio all'interno della macchina virtuale a livelli molto basici ragazzi perché io in realtà ho automazioni molto complesse all'interno delle VPS ma voglio appunto iniziare questo discorso del trading automatico su macchine virtuali perché naturalmente è un discorso molto complesso e molto avanzato che bisogna naturalmente affrontare un po' alla volta andiamo per esempio in Norvegia ragazzi andiamo in Norvegia nella Elite Serien vediamo se trovo qualcosa ragazzi non la vedo ragazzi non vedo appunto la Elite Serien però non importa ragazzi per esempio andiamo a prendere anche il come si dice andiamo a prendere le partite che ci sono in questo momento in Norvegia per esempio appunto la Elite Serien dovrei trovarla qua vado appunto a prendere le partite e che cosa faccio la cosa bella di questa strategia ragazzi è che evita tutte quelle partite dove il risultato è già Any Other Away, Any Other Home o Any Other Draw perché naturalmente le quote si abbassano talmente tanto che per esempio una partita 4-0 non vado a bancare il Any Other Home Win quindi questa è una strategia intelligente che mi permette appunto di bancare solo quei risultati esatti per esempio di 0-0, di 1-1 eccetera eccetera volendo si può anche modificare all'interno della strategia il risultato esatto che vogliamo bancare o anche a dire il vero questa regola all'interno di questa strategia perché? perché io banco prevalentemente risultati che sono sullo 0-0 ragazzi verso la fine della partita quindi negli ultimi 10 minuti come vi dicevo pieno di modalità per modificare anche la strategia in questo caso metto il correct score all'interno di questo incontro e guardo anche le altre partite per esempio ragazzi il correct score l'inserisco qua inserisco tutti i correct score di queste partite appunto in Norvegia serie B se non sbaglio ok ragazzi e come potete vedere tutti gli incontri sono in play vado a inserire appunto la mia automazione auto sniping, auto sniping adesso ragazzi che cosa è successo? all'interno appunto di questi mercati ho una strategia dove automaticamente negli ultimi 10 minuti se il risultato non dovesse essere any other away, any other home ossia se non ci dovesse essere una squadra che è tipo 4-1, 4-2 oppure 0-4, 1-4 eccetera eccetera banco il risultato esatto questa appunto è un'automazione molto semplice in realtà io utilizzo tante automazioni come vi dicevo andiamo rapidamente a fare una ricerca all'interno dei mercati della elite serien, non questo, voglio andare a vedere appunto all'interno del prematch le statistiche della serie B norvegese voglio andare appunto a vedere la Norway serie B per andare a vedere appunto qual è la percentuale di gol che c'è all'interno del secondo tempo come vedete elite serien probabilmente no, la elite serien allora è la prima, la serie A non lo so ragazzi sinceramente però in ogni caso che cosa succede? succede che abbiamo una ottima percentuale di gol verso la fine della partita come vedete praticamente il 50% di gol all'interno del secondo tempo e possiamo andare a vedere che quando il risultato è di per esempio andiamo a vedere il risultato di 0-0 abbiamo una alta percentuale di gol verso la fine della partita ovviamente Trade on Sports c'è delle analisi molto molto specifiche questa naturalmente è molto di base volevo farvi appunto vedere il come poter utilizzare questa strategia e quello che andremo a fare adesso abbiamo praticamente questa partita abbiamo l'auto sniping su questi incontri non appena la partita arriva verso la fine automaticamente verrà bancato il risultato esatto, questo è uno dei moltissimi modi con i quali possiamo naturalmente lavorare adesso come vedete molte partite stanno ricominciando il secondo tempo sta ricominciando adesso e molte partite sono sullo 0-0 potrebbe essere una ottima idea automatizzare in questa maniera qua ovviamente le stake che si utilizzano quando noi automatizziamo un'intera diciamo modalità quindi un intero palinsesto come per esempio la serie A o la serie B norvegese all'interno dei mercati deve essere molto più bassa io per esempio utilizzo delle stake soltanto da 10 ma mi espongo con 10 euro potenzialmente con delle ottime quote perché vado negli ultimi 10 minuti volendo ragazzi esiste anche un'altra automazione che metterò a disposizione sempre all'interno di NowTrade dove bancheremo gli ultimi 30 minuti di partita se le quote sono al di sotto di 3 che appunto è la mia modalità preferita di sniping però come vedete ragazzi in questo momento io posso chiudere benissimo la mia macchina virtuale e lasciare per esempio il computer andare avanti per me e fare sniping essenzialmente su tutte le partite la stessa cosa ragazzi la posso fare per esempio su quei mercati in America per esempio quando sono negli Stati Uniti di notte o la mattina molto presto senza naturalmente dover utilizzare il mio computer quindi questo è uno dei modi diciamo più semplici per utilizzare una macchina virtuale in realtà quello che si fa spesso quando noi utilizziamo appunto una macchina virtuale per esempio vedete appunto questa partita molto probabilmente saranno già sul risultato di 4 a 0 sono sul risultato di 3 a 0 qualora dovesse arrivare sul 4 a 0 quindi any other home win non entrerà bancando naturalmente il risultato esatto all'interno appunto di questa partita però in ogni caso ragazzi quello che volevo dirvi la macchina virtuale non soltanto automatizza il trading ma analizza anche i mercati quindi se per esempio io volessi andare a vedere per esempio un grafico non tanto un grafico di questo tipo ma un grafico storico naturalmente questo grafico non esiste perché lo 0 a 0 è bello che chiuso dovessi andare per esempio a prendere il 3 a 0 come vedete mi mostra appunto il grafico storico quindi la cosa positiva è che la macchina virtuale estrapola dati dai mercati costantemente quindi quello che noi possiamo fare ragazzi è anche salvare per esempio tutto quello che è successo all'interno di un mercato poi esportarlo per esempio in file excel questa è una cosa che faccio molto spesso soprattutto all'interno degli incontri di tennis ma appunto questo è una delle tante modalità ragazzi per automatizzare il nostro trading come vedete queste 4 o 5 partite sto utilizzando la modalità autosniting lascerò il mercato in corso perché abbiamo visto appunto che in Norvegia verso la fine della partita nel frattempo sento che probabilmente è arrivato un altro gol in Russia dove aveva aperto un'altra posizione andiamo rapidamente a vedere ragazzi vediamo un po' è arrivato il pareggio addirittura è arrivato il pareggio della squadra in trasferta quindi noi chiudiamo un profit perché appunto la strategia consigliata all'interno del canale segnali era lo split over 1.5 ma a parte questo ragazzi vi ho appena mostrato uno dei modi uno dei milioni di modi di utilizzare una macchina virtuale ovviamente molti diranno ma lo posso fare anche da un computer fisso perché lo devo fare con una macchina virtuale perché in realtà questo è un utilizzo molto basico della macchina virtuale in realtà la macchina virtuale quello che fa è estrapolare dati quindi specialmente io utilizzo Soccer Mystic o Tennis Trader utilizzo queste automazioni all'interno non automazioni questi software dentro al software di trading per estrapolare il maggior numero di dati appunto dai mercati e per costantemente aumentare le informazioni all'interno del mio database quindi in realtà adesso questa è una versione molto semplice vi ho fatto vedere essenzialmente una strategia di base che io utilizzo sui mercati quindi lo sniping negli ultimi 10 minuti che utilizzerò all'interno appunto di questi mercati però molto spesso specialmente nel tennis io ho intere giornate ragazzi sia di mattina che di nel frattempo probabilmente sarà arrivato un altro gol sia di mattina che di notte e soprattutto la macchina è costantemente accesa perché trada i mercati per me con le automazioni che vedrete anche all'interno della sezione automazioni now trade io vi ringrazio ragazzi questo era un semplice esempio per portare avanti appunto questo discorso delle automazioni la prossima settimana magari vi farò vedere come utilizzi le macchine virtuali per estrapolare dati che mi servono per poi andare a fare trading con la mia manualità diciamo quindi con il mio cervello che va sui mercati e guarda quello che sta succedendo grazie mille ragazzi noi ci vediamo naturalmente la prossima settimana per continuare questo discorso all'interno della rubrica chiedilo a un trader sportivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti